Daviano Lenzi, ci siamo, tra un po' si parte per la Cina, inizia una nuova stagione, innanzitutto come ti sei preparato per quest'estate e quali sono poi i tuoi obiettivi stagionali? Ma sì, adesso la prima neve è arrivata, ho iniziato a sciare, questa stagione diciamo che ho fatto molto allenamento fino a fine luglio, poi dopo ho dovuto dedicarmi un po' a famiglia, impegni di famiglia, alla casa e adesso ho ripreso a caricare un po', diciamo che quest'anno è un anno un po', non dico di transizione, ma comunque un anno che non prevede i campionati del mondo, non c'è il mezzalama, quindi l'obiettivo sarà un po' la coppa del mondo e poi saranno le classiche della Grand Course, la mia stagione entrerà nel vivo per fine gennaio, come sempre, per poi cercare di mantenere la concentrazione alta fino a fine stagione, vedremo. Sugli europei neanche un pensierino? Magari sì, dai, sì, no, beh, sicuramente, però i campionati europei, detto fra me e te, non mi gasano più di quel tanto, per l'amor di Dio il valore in campo è analogo a quello di un mondiale, però si va in Sicilia, quindi la motivazione potrebbe essere lì.